e cosa ripariamo oggi oggi abbiamo un iphone xr che dopo un forte urto un incidente adesso di preciso non abbiamo capito al cliente cosa è successo abbiamo questa scheda madre fratturata vicino alla memoria fortunatamente memoria cpu non sono state danneggiate quindi possiamo fare un nostro swap lo svap perché non lo sapesse spostamento di alcuni componenti su un'altra scheda madre funzionante abbiamo già tolto la cpu qua vedete e anche la memoria abbiamo già tolto nel passaggio precedente ora andiamo alla pulizia della cpu sono passaggi molto delicati qua bisogna stare molto cauti con tutta la pulizia e l'estrazione della cpu della scheda madre ricordo per chi volesse imparare questo bellissimo mestiere noi facciamo corsi qua in sede a modena e 12 volte all'anno anche fuori sede insieme ad altri colleghi per chi fosse interessato a imparare questa tecnica ci può contattare via mail oppure sul nostro numero whatsapp che trovate sul sito di gs telefonia qui vedete la pulizia della cpu anche questo un passaggio molto delicato sembra facile vederlo perché io lo faccio già da un po di tempo però vi assicuro che non è così facile qui stiamo pulendo la scheda madre donatrice che era una scheda madre fresata con una cnc cnc una macchina controllo a controllo numerico diciamo molto precisa che va a fresare la vecchia cpu per creare spazio quella che andremo a saldare noi questa è la piccola e prom che andiamo a togliere dalla scheda madre originale andiamo a saldare sulla scheda madre donatrice senza di questo non si possono recuperare i dati a vi ricordo che va spostata anche questa noterete inizialmente il tappetino blu adesso quello verde perché abbiamo iniziato la riparazione al corso galattina l'abbiamo ultimata qui laboratorio a modena andiamo a risaldare la nostra e prom e ora ribaldiamo la cpu anche questo un passaggio abbastanza delicato tutte queste palline che si creano devono essere tutte della stessa altezza precise precise sennò quando andremo a saldare la cpu il nostro la sua smartphone non servirà correttamente quel momento più bellino che piace a me la saldatura della cpu ok finita anche questo siamo una politina generale e facciamo un test veloce di alcune linee se tutto regolare vedete la scheda di prima come era e ora ora andiamo a fare un collegamento al nostro pc vedere se viene rilevata la scheda madre come vedete è in dfu quindi il la scheda madre sta lavorando correttamente vuol dire che cpu e power manager stanno lavorando correttamente il power manager è quello che fornisce le tensioni alla cpu e vabbè è anche il resto della scheda madre ora lavoriamo la nostra memoria abbiamo re ballate come avete visto nel video e andiamo a saldarla ok l'abbiamo saldata la lasciamo raffreddare un pochino e andiamo adesso a collegare batteria connettore e display ne vediamo se finalmente il nostro nostro xl riparte come vedete la mela la pop pop vediamo vediamo se parte vediamo se parte vediamo se parte vediamo vediamo opla e vediamo che è partito logicamente copriamo facce codici di sblocco e ora possiamo fare il nostro backup logicamente lo facciamo solo al scopo di backup di dei dati ok dati intendo foto video e contatti abbiamo contentato un altro cliente cosa abbiamo riparato oggi